Ciao a tutti ragazzi, io sono Joel e bentornati su The Last of Gaming Joel e Summer si sono sposati, ora vivono insieme Vediamo come andrà avanti questa storia A disagio Fame Tito, ho detto di andare a mangiare, ma se tu preferisci giocare a blocco, Blick Tra l'altro hai anche perso Allora, in caricato del giorno, videogioco è completato Noi andiamo al lavoro fra due ore Ok, ma perché smette di mangiare per raccogliere le piantine? Non l'ho capito Ok, le posso vendere almeno, però Summer sta nuotando Poi, dopo questa bella nuotatina che ti stai facendo Ti devi divertire, gioco un'altra partita, blocco, Blick Cioè tu non ti diverti mai E poi socialità ce l'abbasso, quindi Socializza Controlla la risposta degli amici di penna che avevamo, che avevamo mandato nel forum Allora, bug da segnalare Joel ha notato una sezione del software piena di bug Vuoi rimoccarsi le maniche e segnali tutti da solo o scaricare tutto sul collega gelante? No, segnali bug perché tu devi fare la persona onesta e quindi non si fa scaricare la barina Vai, segnali bug O no, i piatti sporchi si stanno accumulando e Summer non dice stare dietro Summer può sovraccaricare la lavastoviglie o lasciare qualche piatto sporco Allora, io direi di non rischiare quindi lasciare qualche piatto sporco Ok, vediamo Joel è abbastanza sangue, ti capisco Allora, fatti una docetta Potresti anche iniziare a giocare al solito Ah Stavolta giochiamo a My Thing Go Ok, vai a pulire Vai a riparare il lavandino A pulire e poi ti fai una bella dormita che te la meriti A lavoro fra tre giorni Perfetto, abbiamo tutti questi tre giorni Tanto abbiamo fatto già il compito di videogiocare Abbiamo fatto quindi vuolo Facciamo uscire, facciamo qualcosa di più interessante E di stare sempre in casa Devono uscire le piante Non mi crepano Va bene, allora Tu al posto di stare tutto il giorno al computer Usarti di esercitare No, esercitare Esercitare nel tuo lavoro Mettila Vai a preparare tipo un cocktail qualcosa Ok Ma già siamo troppi però No, non mi piace questa situazione Fame, hai fame Vai a prepararti qualcosa Mentre che ci sei Vai Preparare un piatto da gourmet Oltre che a un grande programmatore Joel Era un grande chef Guarda Guarda Oh, non ti tagliare le dita però Ok, il festino è in casa Senza che abbiamo invitato nessuno E abbiamo una casa piena Qualcuno ha rotto il computer Tu te ne vai No, 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 no Tu mi puoi toccare tutto Ma il computer no Il computer no No, 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 no Non va bene Non va bene Via Via ragazzi Non via E vai al bagno E Fatti una doccia Veloce Ora mi tocca riparare il computer Mentre ci sono ospiti Cioè Capito cosa mi tocca fare? No, no Basta Con la doccia rotta Direi di concludere qua E vi ricordo Di lasciare mi piace Di commentare Di condividere il video E soprattutto Di iscrivervi Al canale E va bene Va bene Va bene Ci vediamo In un prossimo video Ciao